Ti stai chiedendo chi è il migliore tra Skrillex e Mozart? Vieni, seguimi! Ciao a tutti e benvenuti a Nullo di essere not at home! Il mio nome è Leonardo Barilaro e sono un pianista, composer e ingegnero di aerospatica, vivendo nella bella lontana di Malta. Se piacerebbe questo video, cliccate sul like e iscrivetevi al mio canale YouTube. Questa mattina mi sono riuscito e ho deciso di studiare ancora una sonata Mozart che ho spiegato molto anni fa, la sonata K330 in C major. Questo non sarà un tutorial o video dove ho analisi questa musica, ma possiamo vedere come un piano in sight, che voglio condividere con voi, dove ho mostrato la bellezza di questa musica, perché questa sonata è una cosa davvero incredibile. e Mozart ha scritto più o meno quando aveva 24 anni. Questo, per Mozart, significa che era già un composo veterano, molto esperto e maturato nelle composizioni. Quindi, senza più oltre raggiungeremo, mi faccio vedere un'ottima verità del primo movimento. La sonata comincia in questo modo. Questa musica è stata creata circa 240 anni fa, quindi è molto lungo dal nostro presente era, dal nostro presente tempo e in società. E abbiamo bisogno di capire come fare un'interpretazione di questa lingua, che in realtà non è facile, perché non abbiamo registri. Abbiamo libri, abbiamo analisi, abbiamo alcuni notici che hanno scritto anche sulle musica di Mozart. Quindi, possiamo capire cosa non fare. Ma, in realtà, è difficile capire cosa fare. Mozart ha spiegato molto il harpsichord, il clavichord, e ha spiegato i primi modelli dei contemporanei pianos. Ma abbiamo bisogno di capire che, in la musica di Mozart, la dinamica di Mozart è più piccola che la dinamica di Rachmaninoff e Mussorgsky, per esempio. E la dinamica di Mozart è cambiata verso il piano e il pianissimo. Quindi, in Mozart, non avremo una dinamica della dinamica come quella che abbiamo trovato in Mussorgsky, per esempio. in Mozart, tutto è più subtile e delicato, se vogliamo inserire il piano di Mozart, questo punto di vista in il nostro tempo moderno. Mozart era appena a una generazione di composatori che avevano confinato i musici nel sapere il loro linguaggio. Quindi, non ci sono molte indicazioni, come possiamo trovare la musica di Stravinsky, per esempio, e è parte del processo di scoprire per capire la struttura di Mozart. Ogni frase, ogni frase, ogni frase, non è solo per loro, ma è parte di una generale fondazione. Ora, provo a non parlare troppo, e a giocare di più. Abbiamo il primo movimento in sonata form, in C major. Abbiamo l'exposizione. con il primo movimento, in C major, che è il tonico. in G major, che è il dominante. che è il dominante. In G major, che è il dominante. After this there is a recapitulation. Where we see again the first subject. Also the second subject appears again. And we have a coda. Leading towards the end of the first movement. Modern society tries to unify and flatten everything, to do huge groups where there is nearly everything. But this cannot be applied to this beautiful music and above all in the case of a master of the past like Mozart. The work to be done in Mozart has to be really accurate, delicate, and also I can consider it like a sort of meditation, allowing us to dive deeper in the meaning of music. In this type of music, rules have to be applied where effective, so it's very important to play with the correct tempo, to study it with a metronome, as we will see. But we have also to understand that expression is the most important thing in order to be able to deliver emotion and to follow this music masterpiece. Now I will just go on studying a little bit this first movement, hoping to give you some useful inputs and inspiration. And just take a look at this meditation. Here I finish the exposition and I subdivide the sentences that are of my interest. So the first one is split into sub-phrases, the second one, and I like to think to the left hand like if there are some strings accompanying and the orchestral side of Mozart's music is very strong, of course. Going with a metronome. Here we go. Barcoli-Rom. Second subject. Development. Let's go. Recapitulation. 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 With a coda. Studying with a metronome allows to give a structure, a framework, where we can work on micro-articulation and on tweaking of all the nuances. Modern pianos allows a rich variety of sounds and it's beautiful to have these tools to be applied also on Mozart's music. So, for example, it's interesting to see between the exposition and the recapitulation how the same music idea is proposed again. Like in this case. Exposition. Recapitulation. Recapitulation. These are small differences, very common in the time of Mozart, but it's also interesting how these are proposed in the music score. Now I want to focus a little bit more on the development. of the world, I want to focus, but I want to focus a little bit more on the Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. What is interesting in Mozart is that the harmony is pretty easy to understand for our modern eyes and like in the beginning, the middle, in the end, we have a succession of a very simple grades, like tonic, first, four, one, one again. So, first grade, fourth, sorry, when we go on the second subject, G major is very clear and is the dominant. Sorry. Development, we have a modulation to G major, so now G major becomes the first grade, the and the recapitulation, we go again in C major, which is the tonic. And we end again in C major. So, for all the music, and also in this case of Mozart, I suggest to do a microanalysis of the structure of the movement, of the composition, and a harmonic analysis step by step, because this helps to clear the ideas and helps a lot of the process of learning for our fingers. Like, here we have tonic, fifth dominant, for example, here we have this rapid succession of the first and dominant grade, so... Again. Another suggestion that I can give is to try to play this beautiful music also with a music workstation, if you have one using the sound of a harpsichord, of a clavichord, orchestral sounds, the sounds of strings. Just let me give you a quick example. Piano music Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. So, now let's see how is this first movement under my fingers. Grazie a tutti. 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 e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. going to the third movement. Let's see. this arpeggio. e a tutti. e a tutti. let's say in italian. cadenza perfetto. much, par 달�iamo. He's here. So, yeah. That's all I have for today. If you found this video useful, please hit the like button and subscribe to my YouTube channel. Please let me know in the comments down below what do you think about this gorgeous, amazing music and which is your experience with it. Thank you for watching and see you to the next episode. You